Salve, benvenuti ad una nuova patch di Valorant. E' da due settimane che non ci vediamo, forse di più. Non mi ricordo. Beh, comunque è dalla 1.13 che non ci vediamo. Allora, abbiamo sistemato, cioè la 1.13 ne abbiamo parlato già, era una patch molto basilare, una di quelle patch che si insomma fanno giusto per risistemare il gioco. Ma andiamo a parlare intanto della 1.14 di Valorant. Prima di cominciare vi avviso che solitamente facciamo le live su Twitch dal lunedì al giovedì dalle circa 16.30 a circa 17.30-18. Poi ovviamente c'è anche la live del sabato che ce la prendiamo un po' con molta calma, facciamo vedere un paio di cosine, facciamo dei giochini. Più che altro dobbiamo aspettare il Silver, perché è il Silver che ovviamente grazie alla sua dialettica ci accompagna in questo percorso delle live su Twitch. Io gli faccio un po' da voce di sottofondo. Bene, ma adesso parliamo innanzitutto della patch 1.14 perché siete qui per quello. Allora, iniziamo un po' a leggere quello che hanno cercato di fare. Ok, siamo tornati con la patch 1.14. Se vi state chiedendo che fine ha fatto la 1.13 sappiate che l'abbiamo usata per implementare qualche miglioramento alle funzioni di Unreal Engine. Tutto qui. Ah, ok, quindi era la 1.12. Ok, va bene. Scusate. Scusate il mio errore. Stavolta ci andiamo leggeri con gli agenti, ma calchiamo la mano con Icebox. Questa tornata di modifiche servirà a correggere il punto A e a rimediare all'eccessiva verticalità della mappa. Per aiutare a contrastare Smurf e giocatori a FK, ora per sbloccare le competitive è necessario vincere 10 partite non competitive. Restando in tema, le novità aggiunte alla modalità spettatore renderanno più spettacolare seguire lo svolgersi della competizione. Inoltre, la distribuzione dei giocatori nei Vali dei Velli è stata regolata per consentire a coloro che sono in grado inferiore di vedere il risultato dei propri sforzi. Infine è arrivata la modalità a tempo limitato battaglia palla di neve, mentre il mercato notturno ha finalmente aperto i battenti. Quindi vediamo, le aggiornamenti vanno su Icebox Sage, novità battaglia palla di neve e nuovi requisiti di accesso coda competitiva. Aggiornamento degli agenti Sage Muro di cristallo Il muro di cristallo non può essere più utilizzato durante la fase di acquisto. Nonostante si trattasse di una soluzione rapida per prevenire un exploit legato a Omen, questa modifica si è rivelata piuttosto utile e riteniamo che aggiunga coerenza per quanto riguarda ciò che può e non può essere utilizzato in fase di acquisto. La maggior parte delle abilità utilizzabili durante la fase di acquisto è pensata per creare finestre di utilità più permanenti. Una volta fortificato il muro non può perdere più salute nel corso del tempo, ma comincia a deteriorarsi solo qualche secondo prima di crollare. In generale siamo soddisfatti del funzionamento del muro di cristallo, ma volevamo dare più valore alla fortificazione, rincompensando i giocatori di Sage che riescono a far fortificare il proprio muro. Rimuovendo questa attenuazione della contromossa, ora possiamo dedicarci ad analizzare nuove opportunità con cui ricompensare i giocatori che riescono a far fortificare il proprio muro. Aggiornamento alle mappe Vedo già che c'è la mappa interattiva che ci fa vedere vecchio, nuovo, così, molto interessante. Allora, le modifiche a Icebox di questo aggiornamento sono incentrate sulla semplificazione del punto A e la riduzione dell'altezza di alcune aree della mappa, che presentavano una verticalità particolarmente spiccata. Ridotta l'altezza dell'area nastro A è collegata alla piattaforma sottostante con una rampa. Questo pone l'area superiore di nastro A più in linea con il resto della verticalità nel punto. Inquadrare i bersagli più in alto richiede inoltre un movimento verticale minore del mirino. Ok, vedete le due immagini anche qui e qui. Qui si vede forse molto meglio come è stata modificata la mappa, la parte di Icebox del punto A. Questo qui è il punto di attacco, se non siete così esperti. Ma penso di sì. Aggiunta un'inter... Ah, scusate. Aggiunta un'inferriata che non può essere attraversata da terra. È interessante. Ma attraverso cui ci... Cui si può sparare. Contiamo che questo renda più facile prevedere i percorsi che scelgono gli attaccanti, che si avvicinano al punto e i difensori che accorrono a riconquistarlo. Ah, molto interessante anche queste piccone modifiche che hanno fatto. Per di solito... Ecco, questa qui è un po'... È molto interessante, anzi. Perché solitamente quando si andava a difendere il punto A, in questo punto esatto, era molto facile coprirsi. Non so, adesso vedremo un po' come funzionerà la difesa di A. Ah, chissà. Vediamo, intanto andiamo a leggere. Rimosso l'angolo della parete, prima immagine, è sostituita dalle... È sostituita le due casse di radiante impalate nel punto con un oggetto più piccolo. Seconda immagine. Quindi questa qui, vedete. Ciò dovrebbe consentire agli attaccanti di avvicinarsi all'area con maggiore sicurezza, nonché un recupero più rapido del punto per i difensori. Ok, buon, questa qui è, vedo, abbastanza molto banale come modifica. Insomma, ridotta all'altezza del container giallo, questo permette di controllare completamente la cima del container da più angoli rispetto a prima e attenua la necessità di spostare il mirino in posizioni scomode per raggiungere i bersagli che si trovano troppo in alto. Aggiornamento alle modalità. Pronti a una battaglia a palle di neve con i vostri amici e probabilmente anche con i vostri nemici? La modalità limitata sarà attiva per due settimane, dal 15 al 29 dicembre. Giocando una partita di battaglia a palla di neve, i giocatori otterranno un accessorio, arma a tema, che verrà loro consegnato in un secondo momento. Deathmatch ha squadre 5 contro 5 e vince la squadra che arriva prima a 50 uccisioni. La rigenerazione è attiva, quindi si torna subito in gioco. L'unica arma a distanza è lo spara palle di neve. Killjoy l'ha creato modificando l'incendio di Brimstone. Le palle di neve seguono una traiettoria balistica, spara più avanti per anticipare il bersaglio. Le palle di neve sono infinite, non smettere mai di sparare. Un regalo che piace a tutti, potenziamenti. Durante la battaglia apriranno doni in giro per la mappa, a volte si apriranno portali da cui fuoriescono a bizzeffe. Ogni dono fornisce un potenziamento quando viene aperto, cioè colpito. È possibile avere un solo potenziamento attivo per volta, quindi condividi i doni con i tuoi compagni. Se muori, lascia a terra il tuo potenziamento e qualcun altro può aggiudicarselo. Tipi di doni. Fuoco rapido, aumenta la cadenza di fuoco. Palla valanga. Le palle di neve crescono dimensione mentre sono in volo. Fantastico. Colpo rimbalzante. Le palle di neve rimbalzano a terra e sui muri. Pattini. Consente di spostarsi velocemente per la mappa con stile. Puoi anche saltare in più alto. Sì, scusate. Puoi saltare anche più in alto. Scusate. Un po' di defiance. Mappe. Settimana 1. Icebox. Si addoppa per le festività solo battaglia a palle di neve. Settimana 2. Sarà possibile giocare a battaglia a palle di neve su tutte le mappe attuali. Progresso. Ottieni 750 punti esperienza per ogni partita completata, più 150 punti esperienza bonus in caso di vittoria. La modalità battaglia a palle di neve non conta per l'avanzamento delle missioni. Aggiornamenti alla modalità competitiva. La distribuzione tra i livelli è stata aggiornata per semplificare la scalata dai gradi più bassi. Questa funzione era stata disabilitata per problemi di prestazioni. Nelle carte giocatore in gioco appare nuovamente lo stemma del grado atto. Abbiamo risolto i problemi di prestazioni che causavano lo stuttering che si verificava in special modo nel rapporto di combattimento che si apriva alla morte. Pagina carriera, cronologia partite e gradi atto sono stati divisi nella loro sezione specifiche. È ancora possibile visualizzare la cronologia delle partite e i progressi del grado atto degli amici. Aggiornamenti al negozio. Scoprite la nostra ultima novità, il mercato notturno. Ciascun giocatore avrà 6 possibilità di ottenere un modello arma di edizione selezionata, deluxe o premium a prezzo scontato. Apre il 10 dicembre, quindi mi raccomando. Regalo di Natale? Chi lo sa. Aggiornamenti social. Il requisito per sbloccare la modalità competitiva è cambiato. Giocare 20 partite non competitive, vincere 10 partite non competitive. Ci auguriamo che questo contribuisca a ridurre la quantità di giocatori che vanno a FK o fanno feeding intenzionale per sbloccare più velocemente possibile la modalità competitiva. E' stata aggiunta una casella di testo al menu segnala giocatore per consentire ai giocatori che segnalano comportamenti molesti di specificare il motivo se lo ritengono necessario. Molto interessante, condivido in pieno la scelta. Ora i giocatori possono aggiungere gli amici dall'elenco giocatori aprendo il menu con ESC durante la partita. Se vi siete divertiti a giocare insieme o contro particolari giocatori, aggiungeteli al vostro elenco di amici per giocare insieme in futuro. Aggiornamento ai sistemi di gioco. Recupero manuale dello stato della partita. Qualora gli organizzatori di un torneo avessero bisogno di tornare indietro o ripartire da un determinato round, ora possono riprendere qualunque partita del torneo dal punto desiderato grazie al nostro strumento di recupero manuale. Inquadrature cinematografiche. Abbiamo disposto varie inquadrature cinematografiche in tutte le mappe utilizzabili dagli spettatori. Premendo maiuscolo più il numero del giocatore, gli spettatori possono passare dalla visuale migliore per assistere all'azione. Gli spettatori possono abbandonare immediatamente una visuale cinematografica per passare alla visuale libera. Abbiamo tante altre idee per funzionalità aggiuntive. Non perdetevi i prossimi aggiornamenti in merito. Visuale in seguimento nel dispositivo lanciabile. Ora gli spettatori possono seguire un dispositivo lanciato dalla gente che stanno osservando. Il tasto predefinito è F. La visuale dello spettatore si fermerà alla destinazione del dispositivo lanciato e da lì passerà alla visuale libera. Interfaccia minima per le trasmissioni. Le inquadrature pensate per le trasmissioni dei tornei ora possono usufruire di un'interfaccia minimalista, attivabile dalla lobby della partita personalizzata, che consente l'uso senza ostruzioni delle overlay preparate dagli organizzatori. Inquadrature in seguimento del punto di osservazione. Ora gli spettatori possono agganciare la propria visuale a quella di un altro spettatore, girandosi senza avere il controllo dello spostamento. I tasti predefiniti per seguire lo spettatore precedente e successivo sono questi due, che sono delle parentesi quadre. La prima è ovviamente aperta e l'altra chiusa. Gli spettatori possono utilizzare i numeri dei giocatori sulla minimappa per passare direttamente da un giocatore a un giocatore specifico. Bug risolti. Risolto un problema per il quale alcune mappe era possibile posizionare sotto terra la torretta di Killjoy. Sì, questo qui è stato un problema. Ho notato qualche video di ragazzi che utilizzavano questa cosa. Poi ovviamente hanno bloccato Killjoy in 0-2 dopo aver scoperto questo piccolo bug, ma era molto divertente. Risolto un problema per il quale Omen poteva teletrasportarsi oltre la barriera alla fase di acquisto. E già siamo a due volte. Questo qui era già un problema che c'era ancora un paio di patch fa. Risolto un bug per il quale, premendo il tasto assegnato a premi per parlare mentre si scriveva in chat, si attivava la chat vocale. Risolto un bug per il quale, per alcuni giocatori che avevano subito una penalità per AFK, le limitazioni alla coda continuavano a ripristinarsi. Jeff Landa, che come ogni volta ci dà una mano per capire quello che stanno progettando i nostri amici di Riot per Valorant. Bene, che dire, per oggi è tutto. Ragazzi, questa qui è la patch 1.14 e noi ci vediamo alla prossima patch e al prossimo video di Valorant o di Age o di qualsivoglia. Bene, ciao ragazzi. Scrivete nei commenti ovviamente se il video vi è piaciuto o se avete qualche commento in particolare. Ci vediamo alla prossima. Grazie.